L'importante raccolta di chitarre, come è nata questa passione? È nata da un gruppo di collezionisti, amanti del chitarre, soprattutto chitarre di vintage, che però hanno scoperto di avere in comune un'altra passione, quella della musica dei Rolling Stones. E allora a uno di noi è venuto in mente, ma perché non montiamo una collezione itinerante che mostri alla gente i modelli che sono stati suonati dai Rolling Stones durante la loro cinquantennale carriera. E quindi abbiamo messo insieme le nostre forze da collezionisti e abbiamo montato una collezione che secondo me è spettacolare per chi ama veramente il rock e soprattutto la musica dei Rolling Stones.